Ci siamo, puntata di Polifemo, l'occhio di abate di venerdì 7 agosto, ore 21, viva la Pugliaccià nel canale 93 del Digitale Terrestre. Una puntata samma, restiva, dedicata all'estate 2015 a Taranto e provincia e parleremo di cultura, di turismo, di spettacolo, di sicurezza sulle strade. Dunque una puntata che comunque vuole valorizzare il nostro territorio attraverso le sue varie angolazioni, le sue varie sfaccettature. Lo faremo con ospiti certamente illustri. Il direttore dell'Automobile Club di Taranto, Pino Lessa, Mimmo Gori, direttore artistico della Coinè Mediterranea e quindi parliamo di spettacolo e di cultura. Parliamo di cultura con la dottoressa Patrizia Guastella, archeologa. Parleremo con Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo e ospita questa puntata di Polifemo presso il BB Albergo Lamanna. E Dulcis in fundo, Valerio Lessa, consigliere comunale di Taranto, vicepresidente della Commissione Servizi. Dunque una puntata, come dire, in due parole, turismo e cultura. E spettacolo, aggiungiamo anche una terza. La replica, ricordiamolo, domenica, due giorni dopo, quindi il 9 di agosto, alle ore 14.30. Non vi resta che mettervi comodamente in poltrona, azionare il telecomando e gustarvi questa appetitosa, usiamo questa terminologia gastronomica, puntata di Polifemo. Buona visione.